Quello che è sicuro è che farà più piacere a Salvini che a Berlusconi vedere, ove mai lo facciano, il risultato del nostro sondaggio del lunedì di questa sera. Vediamo insieme. Lega 33,6, meno 0,4 rispetto a lunedì scorso, ma comunque largamente in testa, davanti a Movimento 5 Stelle, meno 0,5, 20% netto. E a Partito Democratico, 19,4, meno 2,1%. Fratelli d'Italia, 6,7, meno 0,3%. Una sfilza di meno c'è soltanto quella che si chiama una new entry. Italia Viva, di Matteo Renzi, 5,4%, che come vedete si mette in mezzo tra le due forze del centro-destra, Fratelli d'Italia, 6,7, e Forza Italia, 5,1%. Perde lo 0,8%. Questo per quanto riguarda le forze maggiori. Poi 2,3% più 0,1% per la sinistra, 2%, meno 0,3% per i verdi, 2% per, cambiamo, di Toti, è esattamente il risultato di lunedì scorso, più Europa, 1,7%, meno 0,7% e altre liste, 1,8%, meno 0,4%. Allora, cari telespettatori, prima di vedere altri cartelli che sono pure importanti, è chiaro che entrano nuove forze, e poi entrerà anche, prima o poi, immagino, il movimento partito, la lista di calenda e si erodono le posizioni di alcune delle forze politiche. Ma intanto, all'ingrosso, com'è la situazione per quanto riguarda i poli, si sarebbe detto una volta? Sommando, c'è il 47,4% per il centro-destra contro il 38% del centro-sinistra, ma di mezzo ovviamente c'è anche quel 20% rotondo dei 5 Stelle. E se si unisse tutto ciò che non è il centro-destra, sarebbe più in su, il 58%. Ma invece andiamo a vedere cosa è successo con l'ingresso del partito di Renzi, Italia Viva, 5,4%, che prende sostanzialmente, come vedete, il 2,8% dal partito democratico, quindi praticamente poco più della metà di quel 5,4%. Lo 0,8% da più Europa, lo 0,7% da Forza Italia, che evidentemente è anche tributario di quel 2% di Cambiamo, e poi ripesca dall'astensione l'1,1%. Da parte sua, vedete, sull'estrema destra del grafico, il Partito Democratico si riprende uno 0,7% dal Movimento 5 Stelle. Questo sarebbe la composizione che si è venuta a creare con la discesa in campo, diciamo così, comunque in lizza della lista di Renzi, Italia Viva. Come vedete, la scena politica certo non ci dà noia, sicuramente, non dà luogo a momenti di stanco.